Fischer, abbiamo nuove informazioni. Sembra che ci siano altri due terroristi infiltrati nella zona di attesa e nell'area uffici. Non puoi lasciarti dietro a nessun terrorista, Fischer. È troppo rischioso per il proseguimento della missione. Salve. Che diavolo! Esatto, la domanda è quella. Spero che avrai le risposte giuste. Dove si trovano SOT e l'ND-133? Chi è SOT? Poindexter, Pinguino, qualunque sia il nome che ti ha detto. Dov'è il tuo principale? Qualunque cosa tu sappia non ti servirà. Quando arriverai, sarà troppo tardi per tutti voi. Mi piace il tuo accento. Di dove sei? Va all'inferno. Sì, socievole. Da dove vieni? Virginia. Sei americano. E attacchi gli americani. Sì, sono americano. Ma questa non è l'America che dovrebbe essere. E di americani ne sono rimasti pochi. Non abbiamo scelta. Ci servono morti. Sì. Sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. No, non intendevo quello. Non volevo suggerire niente del genere. Se potesse dirmi la sua destinazione iniziale... Capisco. Capisco. Non lo discuto, signore. Ma forse se potesse dirmi la sua destinazione iniziale... Naturalmente, signora Albuquerque. Ma se non mi dice... Sì, Albuquerque. Non lo sto contestando. Albuquerque. Mi scusi, sta suonando un'altra linea. Posso? Mi spiace. Scusi. Capisco. Sto cercando di... Ora mi dirai esattamente cosa contate di fare qui. C'è un errore. Non sono chi credi tu. Interessante. Allora chi saresti? Fermo! Ti stai sbagliando! No, se ti uccido. Parliamo. Il capo sta per disperderlo dalle passerelle. Non so altro. In effetti. Sì. Se non riscrivi la sua destinazione iniziale... Naturalmente... Capisco. Albuquerque. Capisco. Mi scusi. Bel lavoro, Fisher. Li hai eliminati tutti tranne gli uomini di Soth. E dalle intercettazioni sembra che stiano insieme a Soth. Siamo quasi sicuri che si trovi sulle passerelle sopra la zona biglietti. Arriva lassù e trovalo. Neutralizza lui e gli altri e recupera l'ND-133. Oh! Credo che dovremmo fare una pausa. Credo che dovremmo fare una pausa. Soth. Abbiamo un indizio sulla posizione di Soth. Sembra che sia entrato nella biglietteria proprio sotto di te. Fisher, ci serve una conferma. Trova Soth nella biglietteria. Dobbiamo identificarlo. Ancora la storia della gamba. Non so se riesco ad avvicinarmi. Dalla balconata in fondo alle scale mobili. Dovresti farcela. Fischer, cerca Soth sotto di te con l'infrarossi e il binocolo. Ok, eccolo. Affermativo. All'ultima cassetta ND-133. All'ultima cassetta ND-133. L'ascensore è fermo. Grazie, Lambert. Gli uomini di Soth hanno tagliato la corrente. Escludiamo le possibili interruzioni. Devi arrivare lassù in fretta. Puoi aprirti la strada dall'uscita di emergenza. C'è un condotto che ti porterà sulle passerelle. Muoviti. Non abbiamo molto tempo. È un condotto che ti porterà. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti